eccola qua chi sei tu? prendi prendi tieni tieni ma sei proprio una videomaker aspetta non è il senso dell'inquadratura ma perché vuoi premere? che vuoi fare? no che è successo? ti ha bloccato il caricamento ok Nicole no 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 stai facendo un po' di fatica ricola si è un po' sudata ma che modella no Nicole no 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 L'ha bloccato di nuovo come è affatto No 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 L'ha bloccato di nuovo come ha fatto No 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 Aspetta Marco Nicolo questo è delicato Costa Tanti soldi No L'ha bloccato di nuovo Come ha fatto Come ha fatto No! Pronto? Le treccine? No, i codini! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Per il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info C'è la Cappella Cinquina Il Colosseo Salute, ciao! Mi chiamo Nicole, sono una brazzazzosa Gaia! 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 La vuoi abbracciare? Che giovane tu bruciata! Ciao Fabrizio! Ciao! Chi è? Chi è questa bifla? Chi è questa? Perché è il tuo! Sono io! Ti dà un bacio! Brava Gaia! Brava! Chiudiamo! Brava Gaia! Brava! È più forte Gaia! Uno, due, tre! Brava! Chi c'è con il tre? Brava! Gaia fai sentire! Uno, due, tre! Guarda quanto è buono il mio regresso! Non c'è una cesta in più! Oh! E basta! E basta! Tollente eh! Martini piano piano questo! Vai! Ti innamora anche questo eh! no 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 bravo è lo zio della stazione quello che ci stava sempre e lo comando e ognuno di me è lo zio ma buono quando era sì e piccoli sempre e poi da grandi per me e poi c'è sempre un altro zio esibizionista eh, mi stai divertendo tu fa vent'anni sarai lo zio che nella tumbola dirà il primo numero ambo stai facendo andare avanti e indietro guarda gli ultrafuoni proprio secondo me si esaltano stai facendo andare avanti e indietro grazie a tutti